Allora, salve a tutti ragazzi In questo nuovo video vi voglio fare pubblicità ad un canale che devo dire molto bello per chi vuole imparare a programmare in obiettivi C e così Si chiama SimoneC99 Allora, se ci andate adesso il suo ultimo video è un contest partecipate al contest si vince una copia, singolo 5 copie della sua nuova applicazione iContest che se vincerò il redeem anche se non lo vincerò faremo una recensione una recensione completa di iContest già dal nome potete capire di cosa si parla quindi ragazzi, visitate il sito di SimoneC99 link in descrizione partecipate al suo contest, vedete i suoi video e alla prossima, ciao ragazzi